My Family, album numero 56 di Giusti Walter. Foto, video, audio, musica, mix di Walter Giusti. 7.10.1968, primo giorno di asilo di Veronica Giusti. Asilo, elementari, medie, liceo, università, 25 anni di studio di Veronica Giusti. Poi CNR di Pisa, vincitore di concorso e di ruolo. Poi CNR di Pisa, vincitore di concorso e di ruolo. Poi CNR di Pisa, vincitore di concorso e di ruolo. Poi CNR di Pisa, vincitore di concorso e di ruolo. Poi CNR di Pisa, vincitore di concorso e di ruolo. Poi CNR di Pisa, vincitore di concorso e di ruolo. Poi CNR di Pisa, vincitore di concorso e di ruolo. Poi CNR di Pisa, vincitore di concorso e di ruolo. Poi CNR di Pisa, vincitore di concorso e di ruolo. Poi CNR di Pisa, vincitore di concorso e di ruolo. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!